Il borgo medievale di Torchiara si trasformerà dall'1 al 3 settembre prossimi nel paese delle storie. Giornalisti, scrittori ed uomini di cultura si daranno appuntamento nella storica Piazza Torre, al Palazzo Baronale, dalla dimora storica a Borgoriccio, per confrontarsi e raccontare al pubblico le loro storie in una sorta di salotto itinerante nei luoghi più suggestivi del paese. Story Writers, la kermess culturale, vede la regia dell'associazione Ergo Thought in collaborazione con la Proloco Torchiare Superfici 8 e con i patrocini del Comune di Torchiara, dell'Unione dei Comuni Cilentani, della Regione Campagna, della provincia di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Si parte venerdì 1 settembre alle 17.30 presso il Palazzo Baronale con i vari saluti istituzionali. I laboratori di scrittura ricreativa a cura di Paolo Albani si svolgeranno nei giorni 1 e 2 settembre dalle 15 alle 17.30 presso il Palazzo Baronale. Nel laboratorio si affronteranno alcuni aspetti bizzarri dell'oggetto parola, prendendo confidenza con diverse tecniche di manipolazione ludica del linguaggio. Il salotto delle storie sarà articolato attraverso tre appuntamenti che vedranno l'alternarsi di giornalisti, scrittori ed uomini di cultura. A raccontare le storie e le storielle di antiche ricette salernitane saranno il 1 settembre i giornalisti Luciano Pignataro ed Alfonso Sarno. Il 2 settembre alle 18, Raffaele Aragona, ingegnere di professione ed appassionato di enigmi, ludolinguistica e letteratura potenziale, racconterà la vera enigmistica. La rassegna terminerà domenica 3 settembre, sempre alle 18, con i racconti noir di Luca Murolo e Piera Carlo Magno. Nella giornata conclusiva, alle 21 in Piazza Torre, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso Common People, riservato ad aspiranti scrittori e fotografi che con i loro lavori hanno provato a raccontare il cilento. Da non perdere la proiezione del film Vedete, sono uno di voi, di Ermanno Olmi, in programma nella prima serata, l'1 settembre alle 21.30 a Borgoriccio. L'esperienza di Story Riders continua con la performance di due musicisti internazionali, Alexander Drostov e Gabriele Roteman, che si confronteranno con Enzo Landolfi sabato 2 settembre alle 21.30 presso la Piazza Baronale. La musica troverà spazio anche la sera conclusiva, alle 21.30 in Piazza Torre, con il trio Luna Nuova, nel mezzo anche le degustazioni di vini e formaggi.